e stiamo salendo per andare a pizzo croce vediamo se ce la facciamo perché qui tutto intorno è bruttissimo però dai ma noi portiamo il sole quindi speriamo alla prossima stiamo andando verso in del balmo le nubi si alzano le nebbie si alzano in del balmo è nascosto completamente ma c'è un pizzico di azzurro dai che magari ci va bene siamo arrivati in del balmo il tempo fa cagare diciamo che non è per niente bello facciamo una sosta mangiamo qualcosina e poi valutiamo cosa fare mi sa che facciamo dietro pronto il faderona sarà per la prossima volta perché se no non vediamo un fico secco niente dai beviamo mangiamo qualcosina dopo facci eccoci stiamo scendendo dietro di noi ancora tutto nero 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 niente ci siamo riposate abbiamo un pochino di sole a del balmo adesso scendiamo c'è un pochino si vede la vallata sotto dai bello quattro passi giusto quattro chiacchiere giusto due e adesso rientriamo ciao 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 ci arrivati nel momento più bello della giornata aperitilino sedute spizzettino prosecchino salute e con questo video vi salutiamo e alla prossima notte